Ciao ragazzi, vedete questo nuovo video. Allora, noi vi faccio vedere, aspettate, il perché siamo uscite fuori da sole con il telefono e prima eravamo al parco dove c'è il porto e aspettate Allora, vabbè, là in fondo c'è il porto, beh, sì, c'è il porto, c'è il parco e andiamo a fare una passeggiata. E poi qui, là, c'è, vabbè, così del motorino, qui non so ne manco io, cosa c'è, qui sotto? Vabbè, 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 qui io così, c'è la macchina Ok, no, sto, sono ancora... Allora, vi faccio vedere... Allora, aspetta, non so quello che fare... Allora, vabbè, qui c'è così, cosa? Vi faccio vedere, adesso sono sedute in una panchina e si muore dal caldo. Io penso a sé che sono in mani più forti. Aspetta, ora c'è lo sporco, ma le lette sporco c'è. Poi prima stavo facendo dei TikTok, casa, beh, non a casa, ovviamente, c'è, e semmai dopo andiamo a fare un giro con la stuola qua, con altre verde, altre cose. Adesso qua, è così, là, vabbè, ti vi faccio vedere qua sto pezzo. Qui vediamo dove si va. Oh no, è di lì. Allora, guardiamo di lì dove si va, eh? C'è lì dove si va, eh? Allora... Aiuto! C'è tu dove? Ecco, si scende. Ehm, no, qui non si sa neanche dove si va. Aspetta, guardiamo di qua, se c'è tipo l'uscita. Sì. Ah no, qui si va alla metà dove c'è il chio... dove c'è... là dove c'è la piastra. Ma... oh ma qui? Ma lì si fa subito! Oh, non so neanche... mi sembra che c'è la piastra. Eh, allora, dobbiamo lasciare giù i telefoni. Ok, andiamo. Ok. Perché io la vedo la piastra. Lì e qua la piastra. Ecco, ecco la piastra. Ehm... Ah no, non è la piastra. Scusa qui. Sì, la piastra! E dov'è? È là, visto che là c'è il pò. E allora andiamo. Sì, ma non è capo che è un pò, perché la pò... Perché là c'è... che be... che bello, Ale quello! Ma secondo me è impossibile che... Non è qua! Non è qua! Ma qua è la piastra! Lo so, ma... non è... Oh, c'è la macchina! Ma non deve passare di qua, Ale. Non può neanche passare di qua, Ale. Scusa, ma non è possibile perché... qua non è! Lì, la... La pochè è chiusa! Il pro qui! I, non è di... Il nostro. non è che non lo sappiamo ma non è non è non è non è però vabbè no qua non c'è no corri no io vado a casa lo devo caricare che bici piccola che ha qua che buona tua Ok, ti sento buonissimo Tutti stanno guardando al parto Anche questo è un buononore Ora stiamo tornando a casa Ora ricomincio a venire un prono Guardate Vabbè Vieni di qua che c'è una macchina La macchina che sta uscendo Vabbè qua c'è l'asparto Faccio portare io avanti dal telefono Qui non so La in fondo ci sono La cosa dei subacquei E E allora Seguitemi ecco Anche su Youtube E mi chiamo Stella Sì Ecco Lo sanno Siamo un po' fuori di questa E su TikTok abbiamo molti Che mi seguono E su Youtube Ho appena due scritte Una mia sorella E una mia sorella Anche io Anche io ho due scritte Un po' fuori di questa 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 E' una Un po' fuori di questa che mi viene da sotto il mio campanello? no, non faccio vedere questo non è il mio campanello non lo so allora vi faccio vedere come sa come si resta molto difficile siamo proprio al terzo eravamo al quarto o al terzo il piano eravamo al quarto o al terzo di piano no, non mi sa qua non me lo rendo più va bene qua qui siamo oltre va bene, non è la mia volta dai, siamo qua sopra ciao ciao fine del video ciao